bella ragazzi sono da rossi bentornati in questo episodio di cvv2 siamo qui dopo il momento ci siamo lasciati l'ultima volta e dobbiamo sterminare questa grotta piena di tizi cattivi allora io direi di mettere il segnalino qua anche così se dovessimo tornare indietro almeno non è ci... almeno ci può guidare allora io guarderei un attimo con l'oculus un attimo per vedere se abbiamo dei nemici qua vicino o se... e che cazzo che cazzo è sto l'umore? no comunque è... è qua, è qua vidon vidon eccoli qua i nostri vidon cazzute cattivo eh si eh uno qua ce ne dovrebbero e cos'è sta roba? ah è un gargoyle, si ma è morto porca puttana quanto va liiii ok ce ne sono parecchi ma noi cazzo ce ne si oh merda ma io ho ancora ma che se se ne frega berserker berserker qual è il tuo problema? guarda liiii guarda liiii guarda che balliamo addirittura guarda liiii la 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 un cazzo sembrano spade laser le encule che ho io bam ma qua che che roba tutti i cattivi che cosa c'è qui? tanto per sapere un cazzo nemmeno con la torcia posso vedere eh ah no solamente se ok aspetta ma si metto con la torcia? ah apparentemente mi switcha così ta 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 ok va bene andiamo se se faccio anche senza depredare che siamo pieni buongiorno la ahia mi hai fatto male mi hai fatto male ma qualche roba aspetta io voglio sconfiggere il mago qua prima aia 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 porca merda mi ha avvelenato mi ha avvelenato porca miseria ho anche riscatto di di morire brutalmente vaffanculo 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 porca miseria oh allora ehi ma se quale cosa mi prendo lo stesso che così mi faccio soldi scusa gargoyle ok ok macca miseria no io appena stavo peggio io appena stavo chissà che grotta in realtà vabbè abbastanza semplice ok forza son installiamo oppala ok poi la cosa positiva è che una una volta che appunto raggiungi il punto dove hai messo l'indicatore si si leva automaticamente questo è utile mentre ci sono degli giochi che anche se se piazzi l'indicatore anche se si vai nel punto pre preciso dove lo si vai no perchè forse non ho fatto si non si leva l'indicatore e a me questa cosa che quando si leva l'indicatore quando raggiunge il punto insomma è utile cioè utile per me almeno per me è comodo va lì cos'è sta roba ali di gargoyle che cazzo sia è un'ascia un po' così non mi lamento ma sai che figata avere è questa con spezza blocco arda che ro ah ma è ok abbiamo una ma no abbiamo due due mazze tipo boh si capisce va bene però io direi di tornare con con questa che cos'è almeno ok allora 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 no aspetta vediamo un attimino che cosa vuole lo spirito inquieto due innamorati che litigavano pareva che si fossero lasciati ma solo non era vera mentre era tristata l'uomo se lo sembrava uno braccone facciamo magari ottenere informazioni su lui alla locanda della città ahhh locanda della città ok vediamo la locanda della città va bene vediamo la locanda della città si trova da queste parti si scusa eh se 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 tra l'altro c'è qui il mantello che vush vush che switcha nell'aria tutto così felice e contento ma è qui che cà scusa ma che cazzo vabbè è qui la locanda si scusi mi scusi ah beh c'è utile boccale di birra perché che cosa me ne devo fare della della birra proviamo ad andare scusa proviamo uh aspetta sa che ho visto ah questo no no ma si incazzano mi sa si incazzano quindi lascia stare a con lui devo parlare eh il tizio 20 esclare è quale l'amp friends a goal medici or casdò isc Non puoi cambiare niente, più di più che lo sai. Beh, il mio errore. Vuoi prendere un'alba e parlare? Perché non? Prendi un'alba mentre sei qui. Torno subito. Siamo in giro. No, ma sei serio? Sei serio? Ho un boccale di birra. Ma che cazzo fa questo? Avanti indietro. Ma sei serio? Ok, io ne ho prepreso uno. Adesso vado da lui. Che cazzo adesso. Hey, come se c'è l'alba? Ho, ho. Qui ti sei. Well... and now she's gone forever she'll come back from the dead she ended it everything because because i was too immature to take responsibility her name alicia what how would you know that and just hurt it around oh anyway since then i've become the man i am today a wreck a drunk and an asshole but i keep seeing her face in my dreams i wake up crying that ever happened to you before uh once or twice i just i just want to tell her i'm sorry that i would have made the effort but it's too late it's never too late have you tried visiting her grave i'm the last person in the world she'd want to see she can't tell you to leave if she's dead oh think you could tag along you know for moral support i've got nothing else to do grace meet me by the cemetery to the east when you're ready incontro al cimitero porca puttana comunque fermate oh dove corri porca puttana al cimitero allora al cimitero un attimo ah it's here well you know what the fuck i knew i knew i knew i knew quercia cinquantennaria ok è qui sono dietro di te great well it's just around the corner lead the way hey man hey thanks thanks for doing this ok come on let's go eh vabbè fino alla tomba si ma eccola la vor is it really you alicia it's me i finally found the strength to come i'm sorry if i'd only known i forgive you i just want to rest tell me what you need the pendant the one you made but my father he still blames you seeing you perhaps your friend will you help us ne sarei felice i'd be glad to was the house let me let me mark it on your map if I can find the damn thing you got to lay off that sauce aiuto lo spirito di alicia vale qui ne è questa sta tomba eh ok dov'è casa sua ok è qua eh ok vado un attimo a casa e torno anzi mi teletrasporto e ritorno ok è qui comunque ho visto la what are you doing here i did advise you to attempt anything criminal i was captain of the city watch it concerns your daughter whatever she's no longer in this world she asked me to bring a pendant that she left in this house desperate for a thief leave at once before i make you regret it just give me the pendant for alicia you prove nothing invoking my daughter you could have read her name in the lake yard i did vor led me to her grave mention that name again and i'll cut you in ways that would make a eunuch cringe all i want is the pendant a wooden heart and a strap you know which one i mean yes it was alicia's favorite worthless but she never took it off hmm perhaps you do mean well you can trust me to return it to her safely yes i've done my grieving i have no further use for it here she'll appreciate this yes yes i believe she would scusa ti dispiace se prendo questa qui grazie ci vuol cos'altro ok andiamo esci esci fucca la tuta la oppala ok ci siamo oppala do you have it my gift to you oh thank you don't go i will always love you but you have to let me go i i love you too the light the light i thought i had missed it thanks for your help man i i feel like things things are going to be all right ok mille aura ottenuti così thanks for your help man bla 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 dove va ah lì adesso va ma come cammina poi ah così va bene va bene torniamo a casa cos'è sta roba anzi dobbiamo anche posare un paio di cose però dobbiamo tornare abbastanza indietro tipo a the hutman door perché è vero che abbiamo preso la casa qui ma non c'è un cazzo non è c'è un cazzo nella casa a new ashes l'unica pecca è questa quindi adesso andiamo a casa dall'altra parte scusa scusa eccola qui ah la mia bella cioè la prima casa è questa poi allora se non è sbaglio ok si ho già scassinato ok ho messo qui tutte le mie co le mie cosette anzi ma qui è è vuoto c'è ancora dell'altro ah no anche qui c'è dell'altro ma se qui ho tipo messo un po' così un po' là allora quasi quasi allora cos'hai tu cristallo d'anno allora dammi questo e questo lo distruggo perché comunque non è che mi serve però mi dispiace distruggerlo quindi questo cos'è forza cos'è che ha? cristallo d'anno oh dammelo ok visto che questo non mi dà niente ricevo solo il legno si vai tac allora poi abbiamo questo qui piazza trappola fortività eh però ricevo ben 6 di acciaio sono 6 no 2 vabbè meglio di niente vai distruggi e riceviamo i 2 adesso non so se qui posso posso potenziarlo il cristallo d'anno aggiungere 2 per cristallo d'anno al cristallo di livello superiore ma certo pampete cristallo d'anno eh però non lo so cristallo d'anno 75 questo cos'è? cristallo protezione magia dell'acqua magia del fuoco piazza trappola fortività ed energia l'energia non ho ancora capito bene a che cosa mi potrebbe servire non vorrei che forse l'energia riguardasse tipo la stamina o il vigore potrebbe essere tipo la rigenerazione per la salute mentre l'energia sarebbe il vigore vabbè ci potrebbe anche stare allora sì però qui devo mettere via una marea di robe allora mettiamo via però questi qui cazzo allora io dirai il momento di mettere anche anche questo che è in chiare spinta non so allora metto via questo prima aspetta devo mettere qua prima lol allora mettiamo via questo ok ok mettiamo via vabbè questi mettiamo via ok io se non sbaglio avevo anche lo scudo eh infatti e poi anche questo con creatori di scudi più due che non è malazio ecco abbiamo tutte queste cose fighe tipo la spada di cristallo e l'ascia di cristallo però non so se magari c'è anche dell'altro però va bene allora c'è questo stivali da mercenario che al momento vabbè al momento non è da cavaliere mercenario eh non è che cambia più di tanto quindi al momento questo e questi li mettiamo via di là anzi no li mettiamo dall'altra parte scusa prende questi qua e li mettiamo dall'altra parte e dovremmo aver finito se qua è un po' un casino con con la porta attaccata che è qua allora anche qui li scudi al momento mettiamo via questo e questo al momento ci sarebbero anche questi del ciclope eh tanta roba tanta roba guarda qua questa è tutta da vendere cioè vendere da distruggere ve lo dico il pigmento pigmento il pigmentino dove cacchio lo metto il pigmento dove cacchio lo metto ah cazzo mi sono incastrato eh lo metterò sempre qua il pigmento ci sta bene no 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 allora ci sta bene dove sta le armature alla fine quindi vai col pigmento una cosa vuota così però queste vabbè le mettiamo via essenza di morte sì ma queste mi sa che sono per le le magie quindi non credo che serva tanto allora furtività non mi serve magia del fuoco non mi serve piazza trappola non mi serve magia dell'acqua non mi serve però tutto il resto sì aumenta il carico massimo di 20 sì ci potrebbe anche stare forza allora da ghiaccio da da fulmine e questo non ne so che cosa sia ma cos'è spettro buio che cacchio ne so allora questo è veleno questo col coltesco è veleno e questo che tipo c'ha c'ha l'immagine tipo di uno spettro o qualcosa che cacchio ne so boh dovrei vedere beh questo ok questo lo metto via attualmente e e questi qui li distruggiamo tutti perfetto sì li distruggiamo tutti 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 ma tutti hai capito ok allora vabbè ci siamo dimenticati l'elmo e vabbè lo mettiamo via cazzo ho sbagliato e allora ok mettiamo via e basta insomma eccoci qua ok cos'è abbiamo il nostro si abbastanza abbastanza sì e abbiamo anche due vecchiave chiave arrugginita e vabbè questa qui perfetto abbiamo anche una chitarra così tanto perché se la vogliamo suonare non ci dispiace perfetto allora direi che per questo episodio di 2 2 è tutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale vi iscrivetevi se volete rimanere a tornare sui prossimi episodi di tutti altri giochi un attimo che scassino questo porca misera un attimo 1 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 6 3 4 5 6 6 2 2 5 6 6 7 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 12 14 15 15 15 14 16 18 20